Ed eccoci ragazzi al terzo episodio delle bibite particolari, questa volta noi partiremo, di solito partiamo dal più alto al più basso, questa volta invece non facendo discriminazioni partiamo dal più basso al più alto, quindi le altre erano le più basse e subito dopo c'è il frutto della passione, il fuoco che rientra dentro tutti noi. Il frutto della passione, quindi ancora di più, andiamo subito ad aprire, spero che faccia sbocciare qualcosa in noi e in tutti voi e tutti, c'è la lattina che è durissima. L'odore è particolare Non sembra per niente il frutto della passione Non so cosa cavolo possa essere, lo ho mangiato ovviamente il frutto della passione, molta passione, però non so questo cosa sia È buono È buono, è buono, però non lo riconosco come frutto della passione, mi è nuovo Comunque vabbè, perché è buono sette, dai sette E quindi niente, al prossimo episodio con questa qui che mi ispira un sacco, che non so di cosa sia, comunque lo scopriamo nel prossimo episodio Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.